Disposta dal sindaco di Battipaglia Cecilia Francese un'ordinanza contro lo spreco d'acqua. Chi non rispetterà l'ordinanza rischia sanzioni fino a 500 euro. Ecco i punti salienti del provvedimento, che è scattato il 26 luglio e terminerà il 31 agosto del 2023. È vietato riempire le piscine con l'acqua pubblica. Bisognerà provare che l'acqua è giunta da una cisterna, altrimenti in caso di controlli scatterà la muta. C'è il divieto di utilizzare acqua potabile. L'irrigazione e l'innaffiatura di orti, giardini e prati è prevista dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino. Vietati il lavaggio di cortile e piazzali, il lavaggio di veicoli privati a esclusione di quello svolto dagli autolavaggi, il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua e tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico. L'effettuazione delle attività vietate è consentita solo in presenza e a fronte dell'utilizzo del pozzo privato adibito all'esercizio delle stesse attività. L'ordinanza non si applica alle fontane naturalistiche e specchi d'acqua con presenza di fauna e flora ittica. Grazie. Grazie.